Stabile e occupato a Marinella, una denuncia al sindaco Ponzanelli, RFI intervenga contro il degrado della stazione. Scontri allo stadio per Spezia-Livorno, 6 poliziati contusi e feriti, 4 steward. Palazzo Civico si tinge di verde, viola e azzurro per sensibilizzare la popolazione sulle malattie rare. Roberto Braida torna a casa con una personale alcamec dal titolo ipnosi. Gli aquilotti travolgono gli amaranto per 3-0 ma il giudice sportivo non omologa il risultato. Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova edizione del TLS giornale. È scattata una denuncia per occupazione abusiva di edifici a carico di un cittadino marocchino di 37 anni che questa mattina è stato sorpreso dagli agenti della Polizia di Stato all'interno di un casolare di Marinella. Il controllo straordinario è stato effettuato per contrastare il degrado che da tempo interessa gli edifici abbandonati di proprietà della disciolta Marinella S.P.A. e dell'ex colonia Olivetti. L'uomo fermato questa mattina, condotto in commissariato per accertamenti, aveva svariati i precedenti per spaccio e ricettazione. Stop al degrado alla stazione ferroviaria di Sarzana. Luori Baditoieri, il sindaco Cristina Ponzanelli ha seguito del Comitato Ordini e Sicurezza, lanciando un appello anche RFI affinché partecipi a un percorso di recupero dell'intera area. Vediamo il servizio di Sergio Diofili. Sopralluoghi, interventi mirati, accertamenti condivisi tra Polizia Locale e Forze dell'Ordine. Da mesi l'area della stazione ferroviaria è sotto la lente dell'amministrazione Ponzanelli, ma tutto questo, dichiara la sindaca, ancora non basta. È necessario eliminare una volta per tutte il degrado che contraddistingue l'intera area ferroviaria. Solo così potremo riconsegnarla alla fruibilità di cittadini e di viaggiatori dopo anni di abbandono e incuria. Per questo ieri si è svolto in prefettura la Spezia, un vertice con Giuseppe Recchia e Fosco Federighi di Rete Ferroviaria Italiana. Sostenuta dal prefetto Antonio Lucio Garufi e dal questore Francesco Di Ruberto, la sindaca Ponzanelli è stata netta. Ad oggi, ha detto, ci sono aree di proprietà di RFI dove continuano a bivaccare indisturbati balordi e sbandati. I controlli che mettiamo in atto anche grazie al coordinamento interforze tra la nostra polizia locale e le altre forze dell'ordine si scontrano con il perdurare di condizioni di degrado che non possono essere ulteriormente tollerate. RFI deve procedere alla pulizia, alla bonifica delle aree di propria pertinenza, nonché a fare interventi anche murari che impediscano l'accesso alle strutture oggi nella disponibilità di spacciatori e delinquenti. Rete Ferroviaria Italiana ha accolto in parte le richieste della sindaca, del questore e del prefetto impegnandosi a farsi parte attiva con le altre proprietà del gruppo. Ponzanelli ha ribadito a più riprese l'urgenza di un intervento da parte di RFI e ha chiesto che Rete Ferroviaria Italiana si faccia carico al più presto anche della pulizia, del riordino e della immissione nel possesso dell'ente di beni che il Comune ha acquistato ma che oggi, ancora in possesso di Rete Ferroviaria Italiana, sono lasciate all'abbandono e all'incuria. Rimaniamo a Sarzana, incontro ieri a Palazzo Civico tra il sindaco Cristina Ponzanelli, la provincia della Spezia e i titolari dell'impresa Miranda che sta eseguendo i lavori in Piazza Martiri. Molto chiara e diretta al primo cittadino, abbiamo il dovere di verificare la fattibilità di un'ipotesi meno impattante e più coerente con la piazza rispetto al brutto progetto che la città è ereditato dalla precedente amministrazione. Come già anticipato pubblicamente, siamo disponibili a fare quanto possibile per modificare quanto ereditato ed evitare un contenzioso che peserebbe sui cittadini con una potenziale futura richiesta risarcitore ai danni dell'ente e su una piazza già martoriata da un cantiere. Ma ora parliamo di cronaca e di quanto è avvenuto ieri sera durante la partita Spezia-Livorno. Scontri nella curva Piscina alle 21.30, il settore ospiti si è animato e il bersaglio degli ultras toscani del Livorno sono stati gli steward malmenati nella zona che dà verso il settore distinti. È stato necessario l'intervento di un reparto della polizia in dotazione antisommossa per evitare che il servizio d'ordine privato rimanesse in balia della tifoseria avversaria. Sei poliziotti sono rimasti contusi e quattro steward feriti, ma ci sarebbero anche altri tifosi contusi. L'impianto di videosorveglianza del picco ha ripreso tutto e nei prossimi giorni potrebbe anche arrivare l'identificazione dei partecipanti agli scontri. Cambiamo argomento. La Pontremolese è un'opera fondamentale per lo spezzino, bene che nasca un fronte trasversale e di sostegno. È il commento di Antonio Carro, segretario generale provinciale della CISL, che prosegue. La Pontremolese è un'opera fondamentale per lo sviluppo economico della nostra provincia. Guardiamo con grande soddisfazione e interesse l'iniziativa intrapresa da Andrea Orlando per un fronte di sostegno che unisca tutte le forze politiche per sostenere la Pontremolese. Potrà avere importanti ricadute occupazionali, conclude. Per questo guardiamo con favore e apprezziamo l'iniziativa del parlamentare che ha già trovato riscontri da più parti politiche, oltre che dall'amministrazione comunale. spezzina l'asse tibre sia sul fronte stradale sia su quello ferroviario rappresenta un'occasione di sviluppo importante per tutto il territorio. E un altro commento positivo in merito alla proposta del parlamentare Andrea Orlando. Accolgo con piacere e aderisco alla proposta dell'Onorevole di promuovere un comitato trasversale per sostenere il progetto di raddoppio della Pontremolese. Lo sostiene in una nota Andrea Fontana, presidente dell'associazione spedizionieri del porto della Spezia. Auspicò che questa nuova iniziativa aggiunge che dovrà collaborare con l'associazione tibre promossa dall'avvocato Scardiglia alla quale le istituzioni e le associazioni e realtà economiche hanno aderito a suo tempo possa davvero in maniera trasversale promuovere l'opera della Pontremolese rilanciando anche la convinzione che le infrastrutture sono fondamentali per il Paese. E parliamo di politica. Domenica 3 marzo si terranno anche in Liguria le primarie del Partito Democratico per scegliere il segretario nazionale del PD e i membri dell'Assemblea nazionale. Questo è il tema portante della nuova puntata del salotto del signor Rossi che andrà in onda domani. Intanto vediamone una piccola anteprima. Lei sostiene la mozione Giacchetti-Ascani. Che cosa l'ha convinta di questa proposta politica? Intanto il fatto che la sua denominazione sia sempre avanti. Ecco, io credo che tutte le volte che si pone il punto sulla discontinuità rispetto al passato si ritorna indietro, si ricomincia sempre e non si prosegue mai nel progresso e nell'attività riformista che è propria del nostro partito. Il nostro è il Partito Democratico, è un partito progressista, riformista, è un partito laico e è un partito molto progressista. Questo è il partito nel quale io mi sento. Una sostenitrice della mozione Martina perché è la mozione che si fa più garante dell'unità del partito? Sì, 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 anche per quello. Ma soprattutto perché credo in Martina, credo nella sua onestà, anche nel suo rigore, nella sua serietà, nel condurre il partito in un momento difficile come questo. Ci credo perché quando l'ho sentito a Ravenna mi ha commosso, alla festa dell'unità nazionale a Ravenna, mi ha commosso, è stato uno dei pochi che l'ha fatto ultimamente, che è riuscito a commuovermi. Ci credo perché Maurizio Martina è salito sul palco a Roma durante la manifestazione, la prima cosa che ha fatto ha detto grazie e ha chiesto scusa. Che vuol dire che significa che ha capito che qualcosa si è sbagliato, ma che abbiamo il dovere di riparare, di cercare di riparare. Tema delle alleanze, un'apertura alla sinistra radicale, al Movimento 5 Stelle, che scenario politico si profila? Io credo che più delle sigle, più delle categorie strette, la forza di Zingaretti sia quella di poter riallacciare quei ponti che negli anni abbiamo distrutto, abbiamo contribuito a distruggere. Si è visto nei vari appuntamenti elettorali che si sono susseguiti, dove non è un segreto il PD ha conseguito una serie di sconfitte. Nicola Zingaretti si ripropone in qualche modo di ricostruire una coalizione larga che vada dalle esperienze civiche al mondo della sinistra e che in qualche modo ricostituisca un fronte contro quello che oggi deve essere il nostro avversario politico, ovvero Matteo Salvini. Parliamo di economia, credit crunch è il termine tecnico per indicare il rallentamento del credito alle imprese. I dati parlano chiaro, spiega in una nota confartigianato. Da qualche anno assistiamo a una sensibile diminuzione dei finanziamenti da parte delle banche alle imprese, sebbene nel 2018 ci sia stata una timida ripresa. Il credito è fondamentale per la crescita delle imprese e per sopperire ai problemi di liquidità che le imprese manifestano sempre di più, commenta Marco Vignudelli, responsabile ufficio credito di confartigianato, perché in questo contesto crescono anche i ritardi di pagamento da impresa a impresa, creando un corto circuito pericoloso. Chiediamo alle banche un po' più di coraggio per aiutare le imprese utilizzando il nostro confidi di riferimento, il confart, che consente di rilasciare una fideiussione del 50% sul finanziamento, accollandosi il 50% del rischio sull'operazione con un costo modesto per l'impresa. L'ufficio credito confartigianato intanto è in attesa della pubblicazione da parte della Regione Liguria dei bandi di finanziamento a fondo perduto per il 2019. Le indiscrezioni parlano di un contributo per le nuove imprese e per le imprese già esistenti finalizzato ad ammodernare le attrezzature. Per informazioni e chiarimenti è possibile prendere un appuntamento con l'ufficio credito confartigianato con il responsabile Vignudelli oppure chiedendoli Alessandro Rolla. CNA La Spezia organizza a partire da metà marzo un corso di formazione per accesso alla professione di autotrasporto di merci su strada conto di terzi con autoveicoli di massa complessiva da una tonnellata e mezzo a tre tonnellate e mezzo. Le elezioni si svolgeranno nella sede di CNA La Spezia in via Padre Giuliani in orario serale oppure il sabato mattina. Confesercenti La Spezia annuncia che il 15 aprile prossimo sarà emanato un bando della Regione Liguria per l'erogazione di contributi riservato alle edicole e punti vendite esclusivi con sede legale e operative in Liguria. Saranno ammissibili spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2019 o ancora da sostenere riguardanti il miglioramento e la riqualificazione o l'innovazione dei servizi offerti dalle edicole. Per informazioni e assistenza nella compilazione del bando è possibile rivolgersi allo 0187 25 881 o al 348 726 5561. Da questa sera per tutta la prossima settimana per sensibilizzare l'opinione pubblica Palazzo Civico sarà illuminato di verde, viola e azzurro i colori simbolo della giornata delle malattie rare. Sentiamo l'intervista raccolta da Carlo V. Malgabbiani. Oggi giornata mondiale dedicata alle malattie rare quali iniziative si possono mettere in campo per portare alla luce un tema così complesso? Sì, da 12 anni a questa parte a febbraio si celebra la giornata mondiale delle malattie rare sono oltre 6.000 i casi di malattie diagnosticate a livello mondiale in Italia circa un milione e mezzo di persone sono afflitte da una malattia rara e circa 5.000 in Liguria. Come comune da questa sera per tutta la settimana illumineremo il Palazzo Civico di tre colori di rosa, verde e blu simboli della diversità ma anche della bellezza perché queste storie di pazienti sono storie di drammi di terapie, di fatiche, di dolore ma anche di famiglia di una vicinanza ai familiari di amici e parenti perché ogni vita vale come comune abbiamo già approfondito la questione in Commissione Sanità ascoltando e udendo una eccellenza del territorio come il dottor Manironi con la sua unità qui alla Spezia e domani parteciperò come semplice cittadino a un flash mob in Piazza del Ferrari a Genova alle ore 18 per manifestare assieme a tutta l'associazione tutti gli amici e tutti i familiari che ogni vita rara è una vita che vale. Cosa fare concretamente per aiutare la vita delle persone che sono affette da questa patologia e le loro famiglie? Ma innanzitutto per le persone affette da patologia rara la cosa più importante è poter avere una diagnosi precoce perché la diagnosi precoce porta anche alla terapia e per alcune di questi pazienti ci sono queste possibilità e questo parte sicuramente dalla formazione la medicina generale diciamo è il primo filtro noi siamo quelli che possono cogliere i segni anche più sfumati e avere il sospetto clinico occorre poi che anche il paziente sia consapevole e non banalizzi i propri sintomi ma ne parli sempre comunque col medico perché tutto serve poi a condurre la diagnosi Fondamentale quindi una diagnosi precoce? La latenza diagnostica di molte di queste patologie è di 10-15 anni alcune esordiscono in adolescenza e qui c'è il punto critico del passaggio dal pediatra al medico di medicina generale dove alcuni punti dell'anamnesi vengono persi e invece è importante fare attenzione veramente a tutto Il pellegrinaggio Mariano Mensili del primo sabato di marzo si svolgerà dal santuario Francescano di Gaggio alla sino alla chiesa parrocchiale del quartiere di Rebocco intitolata Nostra Signora del Carmine vediamo il servizio di Italo Lunghi Don Giorgio sabato prossimo 2 marzo appuntamento con il pellegrinaggio mariano del primo sabato del mese dove andiamo? Andiamo nella parrocchia del Carmine al Rebocco dove si celebra la festa della Madonna del Carmine il 16 luglio per cui è una chiesa mariana consacrata alla Madonna una parrocchia una comunità cristiana che è stata affidata alla Madonna del Carmine noi come chiesa diocesana ci richiamo lì proprio affidando la nostra intenzione che è come sempre per il dono di vocazioni e la santificazione del clero tenendo conto anche che possiamo dire che siamo alla vigilia se così si può dire di un tempo importante che è la quaresima Don Giorgio in questa occasione una preghiera particolare anche per Agostino recentemente ordinato diacono permanente esatto noi abbiamo avuto la grazia di avere Agostino sabato scorso dalla parrocchia di Ortonovo ordinato diacono permanente e affidiamo anche lui quando noi parliamo di vocazioni certo noi chiediamo al Signore vocazioni sacri al sacerdotio perché non dobbiamo dimenticare la necessità e l'urgenza il bisogno che la chiesa ha di presbiteri però quando parliamo di vocazioni noi parliamo anche di vocazioni ministeriali come ordinate e no e vocazioni religiose qualche informazione logistica? l'appuntamento è alle 8 presso il santuario di Sant'Antonio di Gagio di Padri Francescani poi di lì si parte a piedi e il tragitto non è particolarmente lungo e difficoltoso verso la chiesa del Rebocco dove alle 8 e mezza Monsignor Vescovo celebra la messa e poi ci sarà il momento del caffè insieme appuntamento al 2 marzo prossimo domenica 3 marzo la Lipu ricorda Davide Barcellone a due anni dalla scomparsa con due iniziative la prima è andare per erbi con Davide in collaborazione con Slow Food l'appuntamento alle 9 a 45 al Sant'Anna Hostel in località Sant'Anna la Foce si tratta di un'escursione di circa due ore per la conoscenza delle erbe selvatiche commestibili per chi lo desidera è possibile anche una degustazione di focacce, torte dolci e salate con un contributo di 15 euro sia per l'escursione che per la degustazione è necessaria la prenotazione telefonando ai numeri 349-818-1269 oppure 335-123-5885 la seconda iniziativa è un'escursione guidata all'Oasi di Arcola di cui Davide è stato responsabile il ritrovo è fissato per le 15 al centro visite a lui dedicato per questa iniziativa non occorre prenotazione parliamo di cultura e spettacolo il CAMEC centro arte moderna e contemporanea ospita dal 3 marzo al 7 aprile la personale del pittore Roberto Braida il titolo è ipnosi questa mattina si è tenuta la presentazione in comune vediamo il nostro servizio le immagini sono di Davide Morina lei è un amante del colore il CAMEC dedicherà una personale proprio a questo suo amore ma in realtà lei qua decanta anche l'infinito amore che ha per questa città assolutamente attraverso il colore traduco quelli che sono dei sentimenti veri forti delle emozioni da portare sulle tele questa mostra rappresenta in realtà il lavoro di un anno e mezzo e anche oltre per raccogliere dei dipinti di particolare intensità di particolare cromatismo per noi che siamo poi gente di mare e che vediamo il mare e lo apprezziamo così nelle sue più intime sfumature vuoi quando è il mare d'inverno magnifico e che magari per un attimo alla mattina all'alba si incendia il golfo di rosso e poi questo rosso lascia il posto al giallo oro basta essere acuti osservatori e qualcosa di magico va a finire sulle tele qual è l'emozione più forte che le ha dato questa città? ma è un grande apprezzamento è un sentimento di di grande stima e soprattutto che mi viene dai ragazzi dai giovani con i quali io per molti anni ho avuto a che fare i ragazzi hanno un filtro straordinario sono limpidi come l'acqua di montagna riescono a capire delle verità delle bellezze con una passione veramente incredibile e sono io che ringrazio i ragazzi sono stato benissimo con loro questa mostra è un gradito ritorno a casa finalmente una personale su questo grandissimo artista assolutamente sì l'abbiamo voluto creare questo appuntamento per riconoscere il grande merito artistico di Roberto Braida un onore per la sua città e una volta tanto vogliamo anche sconfiggere il motto nemo profetto in patria invece Roberto Braida deve essere profetto in patria perché lo è nel mondo un artista veramente bello che dà delle emozioni sembra di rivivere magari il nostro mare quando c'è brutto tempo quando tante volte pensiamo cosa c'è oltre di noi la nostra terra il nostro mare si ritrova in questo colore in queste opere veramente in modo incredibile all'oratorio Don Bosco alla Spezia si terrà un convegno sul tema educazione e pace all'evento parteciperà come relatore il professor Francesco Barone il quale presenterà il documento che gli è stato consegnato da Dennis Mukwege premio Nobel per la pace nel 2018 sentiamo le interviste di Jacopo Cidale le immagini sono di Raffaele Maulella sabato all'oratorio Don Bosco sarà affrontato un argomento importante si parlerà infatti dell'Africa precisamente della Repubblica Democratica del Congo e verrà appunto raccontata la drammatica situazione che viene vissuta dalle popolazioni locali sì sarà un incontro veramente speciale unico direi per la città di La Spezia dove verrà esposto presentato a tutti questo è il mio invito questo documento che il premio Nobel per la pace 2018 Dennis Mukwege ha affidato al professor Barone che è docente dell'università dell'Aquila durante l'ultima sua missione perché lui è reddice di 51 missioni in Africa in diverse parti dell'Africa ha ricevuto questo documento noi ci stiamo impegnando di portarlo in tutta Italia proprio per farlo conoscere per portare l'attenzione su quello che sta accadendo perché è inaccettabile che migliaia di donne siano vittime di stupi di guerra bambini siano ancora in queste condizioni vivano indigenti muoiono di fame muoiono per malattie che noi sono assolutamente curabili quindi è dovere di ognuno di noi fare qualcosa impegnarsi perché queste cose abbiano finalmente termine questo documento poi ha dato diciamo la possibilità a chi non aveva voce non aveva voce in capitolo di essere ascoltato questo è quello che vorremmo che diciamo la popolazione ascolti finalmente le parole di chi voce non aveva ecco ricordiamo quindi l'appuntamento sì sabato 2 ore 17 presso l'oratorio Don Bosco via Roma 138 il lungo carnevale 2019 entra nel vivo alla fabbrica si parte con i laboratori del gioco e della creatività curati dalla cooperativa Zoe che nel consueto appuntamento del venerdì e del sabato dalle 17 alle 19 propongono due incontri dedicati al carnevale con a tema la realizzazione di strumenti musicali davvero rumorosi e il re carnevale futurista sempre venerdì chi non partecipa ai laboratori può assistere dalle 17 alla parata dei giocattoli diata e curata da Prodanza SD con i suoi fantastici allievi e il carnevale continua sabato 2 marzo alle 15.30 in galleria con la tradizionale festa di carnevale nella quale tutto può succedere infine martedì 5 marzo martedì grasso arrivederci carnevale con tanti giochi e la tradizionale pentolaccia domani venerdì 1 marzo inizierà l'istituto nautico di Viale Italia 88 alla Spezia il corso di astronomia di base è un corso adatto a tutti e destinato a chi vuole iniziare un proprio percorso di astronomia e anche a chi vuole approfondire i temi a chi non ha mai osservato il cielo a chi vuole partecipare personalmente all'attività di divulgazione didattica e ricerca astronomica ce ne parla Raffaele Maulella come ogni anno l'istituto Spezino ricerche astronomiche già da molti anni organizza un corso di astronomia di base che sarà si svolgerà al nautico al planetario del nautico e all'osservatorio e quindi parleremo sia di cose teoriche come le stelle la formazione delle stelle come nascono in che modo le galassie i pianeti extrasolari la fotografia astronomica e quindi argomenti pratici e argomenti teorici in pratica faremo una visita al planetario dove siamo adesso che è proprio qui al nautico e le lezioni si svolgeranno comunque in un'aula del nautico e poi faremo delle uscite notturne con i telescopi all'osservatorio astronomico tutto questo inizierà il primo marzo generalmente il venerdì venerdì sera e arriverà fino a giugno quindi è un corso molto articolato e complesso che però offrirà la possibilità a chi comincia perché è destinato anche a chi non ha alcuna nozione diciamo approfondita di astronomia ma anche a quelli diciamo un pochettino più iniziati per cui già sulla base di quello che abbiamo visto negli anni scorsi è un appuntamento molto seguito e molto apprezzato dalla comunità spezzina e ora una notizia di servizio pulizia settimanale dei quartieri e calendario lavaggio porticati sabato 2 marzo intervento di pulizia nella zona centro città sud piazza Chiodo via di Amendola la raccolta ingombranti e RAE nel fine settimana si terrà sabato 2 nel quartiere di Pitelli e il pianale sarà posizionato in piazza 4 novembre di fronte al circolo Arci domenica 3 sarà nel quartiere di Cadimare e il pianale sarà posizionato in via della Marina ai giardini Scalo e sabato 2 marzo in piazza del Bastione appuntamento con una simulazione dal vivo organizzata dalla Croce Rossa della Spezia dalle 18 alle 23 i giovani della Croce Rossa riproporranno un'attività di sensibilizzazione che nei mesi scorsi ha ottenuto notevole successo fra gli adolescenti l'iniziativa ha l'obiettivo di informare i più giovani sui pericoli per la salute provocati dagli stupefacenti attraverso una simulazione dal vivo di una serata tra amici in discoteca e ora parliamo di sport veniamo allo Spezia Calcio Spezia Livorno posticipo della settima giornata di ritorno del campionato di Serie B non è stata omologata dal giudice sportivo che ha fatto sapere di aver ricevuto dal Livorno preannuncio di reclamo in ordine alla regolarità della gara e in attesa di ricevere le motivazioni si riserva di decidere in merito all'omologazione del risultato si ignorano al momento le motivazioni alla base del reclamo che potrebbero essere collegate dall'inchiesta della procura spezzina sull'ingresso in Italia di alcuni ragazzi nigeriani tra i quali David Okerec protagonista della gara di ieri sera escluse al momento le classiche motivazioni quali l'ingresso di giocatori squalificati o l'errato numero di sostituzioni intanto la società toscana è stata sanzionata con un'ammenda di 20.000 euro e di fida per il comportamento dei suoi sostenitori durante la gara ma adesso sentiamo le interviste raccolte ieri sera al termine della partita vediamo lo spezzia torna alla vittoria dopo le due scorse sconfitte cosa è cambiato al di là del fatto che l'avversario non valeva quello forse delle volte scorse è cambiato che la squadra sta cercando di dare continuità a quello che ha fatto precedentemente quindi ha avuto una bella reazione dopo due sconfitte secondo me entrambe immeritate oggi abbiamo avuto un'ottima reazione abbiamo sempre cercato di giocare di portare a termine la partita di chiuderla nel primo tempo non ci siamo riusciti nonostante le svariate opportunità che abbiamo creato poi la squadra ha difeso anche bene rischiando poco e poi abbiamo chiuso la partita però io sono contento della prestazione perché la partita l'abbiamo interpretata subito giusto diciamo colpiglio giusto e poi l'abbiamo gestita bene ci siamo difesi con ordine e sono soddisfatto perché i ragazzi oggi veramente hanno fatto hanno impresso un buon ritmo hanno avuto delle accelerazioni importanti quindi va bene così nel computo delle tre gare facendo un po' un bilancio con quali criteri si va a Pescara domenica si gioca a Pescara domenica quindi valuteremo chi recupera chi si fa trovare pronto per questa partita dunque Occherecche forse ha mancato un paio di gol in compenso in un certo qual modo ha fatto segnare te ci voleva via bisognava che ti ripresentassi così dopo che era un po' che non ti si vedeva da queste parti sì infatti avevo una grande voglia sia di tornare a giocare soprattutto e avevo voglia di farlo in maniera concreta infatti è arrivato il gol che è stato importante soprattutto per la squadra perché penso abbiamo giocato una buona partita poi siamo riusciti a chiuderla potevamo chiuderla forse un po' prima però siamo riusciti nel finale a fare altri due goli e ovviamente tutti questi temi verranno approfonditi questa sera nel corso della trasmissione voglia di Spezia in chiusura veniamo alle previsioni del tempo per la giornata di domani sulla costa al mattino il cielo sarà irregolarmente nuvoloso e questa condizione permarrà anche nelle ore pomeridiane l'umidità sarà su valori alti i venti soffieranno deboli variabili o a regime di brezza fino al primo pomeriggio poi settentrionali con raffiche fino a 50 60 km orari su rilievi e zone costiere esposte del centro ponente il mare sarà mosso le temperature oscilleranno tra una minima di 7 gradi e una massima di 16 gradi per questa edizione del TLS giornale questa era davvero l'ultima notizia grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata su Tele Liguria Sud arrivederci su Tele Liguria Sud su Tele Liguria Sud la squadra l'ultima notizia su Tele Liguria Sud su Tele Liguria Sud su Tele Liguria Sud su Tele Liguria Sud Grazie a tutti.